Stiamo portando queste rose a Maria per tutti voi, però nel frattempo recitiamo la coroncina divina di misericordia mentre camminiamo per i campi, quindi vedrete il nostro tragitto e reciteremo la coroncina divina di misericordia Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tempi, ma libera dal male, amore Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetto il tuo nome, amore Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra E in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato Fu crocifisso, morì e fu sepolto Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte Salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente Di là verrà a giudicare i vivi e i morti Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica La comunione dei Santi, la remissione dei peccati La remissione della divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo Per la sua dolorosa passione Per la sua dolorosa passione Per la sua dolorosa passione Abbi misericordia di noi e del mondo intero Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità Del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero Per la sua dolorosa passione Per la sua dolorosa passione Abbi misericordia di noi e del mondo intero Eterno Padre, io ti offro il sangue, l'anima e del mondo intero Per la sua dolorosa passione Abbi misericordia di noi e del mondo intero Per la sua dolorosa passione Per la sua dolorosa passione Abbi misericordia di noi e del mondo intero Per la sua dolorosa passione Abbi misericordia di noi e del mondo intero Per la sua dolorosa passione Abbi misericordia di noi e del mondo intero Per la sua dolorosa passione Abbi misericordia di noi e del mondo intero per la Sua dolorosa passione Abbi misericordia di noi e del mondo interno per la Sua dolorosa passione 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 Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, per la sua dolorosa passione, 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 santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero, santo Dio, santo forte, santo immortale, per la sua dolorosa passione, abbi pietà di noi e del mondo intero, santo Dio, santo forte, santo immortale, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, abbi pietà di noi e del mondo intero, o sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, Gesù, confido in te, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, l'Eterno riposo dona al loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, mi custodisci, regge e governi di me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, Amen. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve, a te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime, or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine, per tutte le intenzioni del gruppo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca tutti alla vita eterna, Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Grazie. Cari fratelli e cari sorelle, adesso, lasciamo la ripresa, mentre camminiamo, sempre per questa via dei campi, resterò in silenzio, però arriveremo fino a sotto alla collina, con questa ripresa. Quindi vi invito, come se foste qui tutti quanti, a lasciare tutte le vostre intenzioni. In questo cammino che, seppur breve comunque, vedete anche l'ambiente dove ci troviamo molto spartano, fa un po' percepire, un po' lo spirito di Meggiugori. Uno spirito semplice, che ci porterà sicuramente a toccare la grazia del Padre. Allora, affidiamo tutte le nostre intenzioni in questo momento, tutte le nostre necessità, e le rivolgiamo a Maria, che ha scelto questo luogo, per aiutarci a resistere alle insiedie del male, e condurci tutti a Suo Figlio Gesù. Da questo momento in poi, sarò in silenzio, pregherò in silenzio per tutti voi, e spero che ve lo facciate per noi. Intanto vi accenno che sulla destra è il Kricevaz. Vedete la collina? Si dovrebbe vedere la croce. Non so se la vedete. Quella è il Kricevaz, e davanti abbiamo la... noi c'è la Madonnina, vediamo se si vede. Sì, la vedete? Ok, andiamo lì a portare quel mazzo di fiori iniziale, anche per voi. vedete sulla sinistra, cose che si vedono solo nei paesi. Vedete che fanno l'uova, stanno tagliando. Questa è Međugorje. Questa è la gente di Međugorje. Allora... Alla fine della strada finiremo la coroncina bene per quel lapsus che mi è venuto, che me ne scuso, ma qualcuno mi avrà tolto le parole da recitare e allora le ripetiamo e allora le ripetiamo e allora le ripetiamo e allora le ripetiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Con sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te. Santa Fostina prega e intercedi per tutte le nostre necessità. Vergine Maria accoglie le nostre suppliche e portale davanti al trono dell'Altissimo. Ora usciremo davanti alla casa, alla ex casa di Isca e vi invito a fare una preghiera per lei, perché non sta molto bene. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Per le intenzioni di Maria, ammi giugori. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Questa era la casa di Isca, dove lei per molti anni ha avuto visioni continue, cioè visioni, apparizioni continue con la Madonna. Questa è la stradina che porta su, la collina. E questo era mi giugori ai tempi delle apparizioni, tutte case così. Spero di avervi fatto vivere un pochino, un pezzettino di meggiugori. Questa è la salita che porta alla collina. Questa è la salita che porta alla collina. Questa è la salita che porta alla collina. Adesso iniziamo il rosario e vi portiamo con noi. Un abbraccio grande da qui. Di voi benedica.